Adoro sia Sio sia Silvia Ziche e adoro che lavorino insieme, quindi penso che sia l'occasione per una grande comicità all'interno del mondo del topolino. Lavorare con Silvia Ziche è stato bellissimo perché è una delle mie autrici preferite non solo di Disney ma di tutto in generale e sono onorato ed è bellissimo vedere i miei personaggi disegnati malissimo, ripresi anche quasi alla lettera nelle quadrature dai disegni bellissimi di Silvia. A me è piaciuto tantissimo lavorare con Sio perché capita che io mi scrivo le storie, mi faccio disegni, però questo lavoro si fa prevalentemente in casa sola, con me stessa, con i miei libri e queste cose qui. Invece lavorare con un'altra persona, in questo caso Sio che comunque mi diverte molto quello che scrive, lavorare con un'altra persona è comunque sempre essere portato un po' al di fuori dei propri orizzonti, si va comunque a esplorare dei territori che normalmente non sarebbero i nostri, quindi devo dire che lavorare con Sio mi piace perché mi aiuta anche a uscire un po' dalle mie solite cose. Luca Comics e Games e altre cose del 2016 è bellissimo perché sono già 50 anni che vengo tutti gli anni, soprattutto prima di nascere e niente, è una meraviglia vedere tutte queste persone che sono appassionate di fumetti, che vengono qua a salutarci perché per noi è un lavoro un po' solitario, in realtà poi veniamo qui e troviamo delle persone che dicono ho letto il tuo fumetto e io ho detto wow non lo sapevo che ci sono delle vere persone che lo leggono, è bellissimo. Quindi venire qui a Luca Comics per noi, so che sembra strano dirlo, ma per noi è proprio un canale ai piedi nella realtà probabilmente, sembra strano dirlo, quindi comunque è una cosa molto divertente e anche utile, quindi ciao Luca Comics! Grazie a tutti!